Musica Salve, buongiorno, oggi si celebra il terzo Memorial di Simone Corsi, un ragazzo di 26 anni morto in un incidente stradale con la moto e tutti gli amici che lui conosceva, che quindi erano anche tanti, si è pensato già tre anni fa di fare il primo Memorial Memorial che ha visto la partecipazione di oltre 400 moto, quindi con la presenza di 500-600 persone che voleva appunto celebrare quello che era l'amico Simone Corsi e i ragazzi poi si sono anche voluti in qualche maniera ricordarlo creando anche l'associazione a sedissimo nei corsi che oggi sono qui a celebrare il terzo Memorial, il terzo Memorial che vede la partecipazione di tanti ragazzi, soprattutto giovani e anche un gran numero di moto per ricordarlo, soprattutto per quello che è stato per tutti quanti noi. Grazie a tutti!